Sei tu Fabrizio Moro, c'è una domanda per te, grazie a te, che stai mangiando? Per il nervoso, per il nervoso, per scaricare l'ansia, in questi giorni ho accumulato tantissima tensione Ah sì, è sempre molto emozionante essere qua Però siamo sempre tutti felici di vederti, guarda, te lo posso proprio dire Grazie, grazie Allora, Alba, avevo una domanda per te, solo una Allora, lo conosciamo, ha fatto testi bellissimi, sempre molto impegnati, mafia, terrorismo, adesso amore, però anche regia Sì, domani esce il mio primo film da regista, scritto insieme ad Alessio De Lonardis che ha già lavorato in passato con Taviani, Marco Risi, Gabriele Mainetti è stato scritto durante la pandemia, eravamo lontani dal palco e quindi ci siamo dedicati a questo progetto che ci ha salvato domani uscirà in 200 sale in tutta Italia, Ghiaccio Si chiama il film? Ghiaccio Ghiaccio, interpretato da Vinicio Marchioni e da Giacomo Ferrara Allora, ti aspetto domenica, io non vieni a presentare, scusa Magari, magari Domenica prossima? Magari Così parliamo del film, oltre che del tuo lavoro Grazie Grazie Fabrizio Fabrizio Moro, ci vediamo domenica, domenica in Ciao